eccoci qua torsiometro scusate l'assenza ma per vari motivi ho aspettato un pochino prima perché volevo informarmi molto bene sui fatti e poi perché stavo preparando anche altre cose due temi volevo trattare in questo video che spero non sarà troppo lungo non volevo parlare di MotoGP ma di Civ per due episodi abbastanza spiacevoli che sono successi uno è stato necessario analizzarlo bene ed è appunto un tema portato alla luce da un post su Facebook di Genesio Bevilacqua che lamentava insomma il fatto che un team manager ex campione da poco arrivato al Civ è rimasto senza piloti insomma è facile intuire che si parli di Max Biagi secondo Genesio Bevilacqua avrebbe tentato di portare via fra virgolette un pilota al suo team ma anche ad altri in seguito all'infortunio occorso ai piloti di quest'ultimo in realtà ho letto subito gli sfoghi dei tifosi e tutto il resto ma ho preferito informarmi bene ho sentito Genesio Bevilacqua che ovviamente aveva già commentato anche troppo forse anche a caldo e quindi poi ho sentito il team manager del team in questione che è appunto Michel Fabrizio che mi ha appunto confermato che in seguito dell'infortunio soprattutto di Del Bianco qualche appartenente all'entourage del team di Max Biagi abbia chiesto di poter diciamo abbia avvicinato il pilota del team MF 84 per cercare di portarlo nella propria nella propria squadra in realtà queste cose succedono molto spesso nelle corse ed è una cosa abbastanza naturale magari meno naturale sono i modi e i tempi però sono cose che succedono e lì ci si può discutere tanto ma interessa sapere se le cose sono veramente andate così ho sentito anche l'entourage di Max Biagi non Max Biagi direttamente ma delle persone a lui vicine che hanno confermato questa questa diciamo così richiesta ma anche la disponibilità di Michel Fabrizio a lasciare andare il pilota in questione disponibilità che mi è stata comunicata anche da dallo stesso dallo stesso Michel che correttamente insomma secondo cui correttamente avrebbe chiesto al ragazzo se fosse stato disponibile a cambiare squadra per eventualmente passare ad un team che aveva che ha ambizioni diverse per quanto lo stesso MF 84 come team abbia in programma di partecipare alle competizioni internazionali quello che è quindi le due versioni sono sostanzialmente concordanti in realtà mi preme dire che non ho nessuna preferenza per una parte o per l'altra non ce l'ho mai avuta in nessun ambito la mia fra virgolette mancanza di una dichiarazione di un pezzo è stato sempre necessariamente legato al fatto che è stato per me sempre importante informarmi prima non essendo stato sul posto sentire le due le due parti per non fare come alcuni altri che cavalcono una o l'altra fazione per convenienza schieramento eccetera quello su cui le due parti non sono d'accordo sarebbe una richiesta da parte di Michel Fabrizio di una discreta somma sembra 50 40 50 mila euro per lasciare andare il pilota ed in base a questa l'entourage di Max Piaggi avrebbe declinato poi in seguito all'offerta in realtà su questo divergono le due parti questa cosa noi non la sapremo mai di fatto dispiace che ci siano due ragazzi infortunati dispiace che diciamo così vi siano stati comportamenti così aggressivi però io sono sicuro per averli vissuti direttamente personalmente che tante volte siano accadute cose simili nelle corse magari con modalità meno eclatanti diversi magari con personaggi diversi coinvolti e che quindi insomma fondamentalmente è abbastanza per quanto non sia forse bello né giusto è comunque la realtà di quello che accade qualsiasi squadra cerca di rafforzarsi se perde delle pedine pregiate o meno insomma in tutti i sensi manca questa non sapremmo mai come sono andate le cose se vi siano state richieste di denaro o meno anche lì un team manager che gestisce un team e che ha quindi fatto degli investimenti forse ha diritto a chiederne conto ammesso che sia successo quindi manca questa parte per quanto nessuna delle due abbia diciamo così smentito il 90 per cento di quanto di quanto è stato accaduto poi ognuno si prende le responsabilità di dichiarire di quello che ha detto dei modi dei toni delle misure di quello che ha detto ma ovviamente tutte le parti in causa hanno diritto di esprimersi nel calore in base al quale sono coinvolti cinque minuti di questo per dire che quanto è successo è effettivamente vero ma c'è un elemento abbastanza importante che è quello della richiesta di denaro che andrebbe andrebbe capito io non ho avuto modo di sentire direttamente max viaggi ma persone che avrà magari anche altro da fare ma persone alle vicine che mi hanno confermato tutto compresa la richiesta di denaro smentita invece dalla parte di altea più che di altea in realtà del team mf 84 di cui altea mi sembra di aver capito è uno degli sponsor e offre la struttura in logistica da qui se qualcuno vorrà fare delle dei chiarimenti venga però credo che sia alla fine stia in mano a al pubblico a chi legge gli appassionati e quelli che parteggiano per una parte o per l'altra capire e intendere quali sono veramente le cose come vogliono interpretare le cose lungi da me il fatto di tirarmi fuori da dare un'informazione io do le informazioni che ho tratto i temi che voglio e se non ho informazioni complete precise e bilaterali in questo caso trattandosi di due parti oppure informazioni certe io le notizie fondamentalmente non le do da qui la necessità di far passare due giorni una cosa che invece è oggettivamente brutta che è successa e che non si può smentire è una cosa abbastanza grave che è il furto sembra una stupidaggine ma il furto di materiale fotografico al fotografo ufficiale del CIV Fabrizio Porrozzi che nel Parc Fermet è stato derubato di una macchina e di un obiettivo per un valore molto elevato per come la vedo io e immagino anche per come la vede un professionista circa 20.000 euro appoggiare per un fotografo ufficiale un obiettivo e una macchina nel parco chiuso per cambiare dispositivo e fare altre foto dovrebbe essere un gesto è un gesto da decenni naturalissimo e tutto viene svolto solitamente almeno così dovrebbe essere nella più totale sicurezza è vero che in passato al CIV magari nel paddock ma anche al mondiale della MotoGP al Mugello in Sala Sampa sono stati effettuati dei furti però è anche singolare che nel parco chiuso che per definizione dovrebbe essere aperto esclusivamente agli addetti ai lavori ed esclusivamente agli addetti ai lavori che sono impegnati in quel determinato momento è veramente singolare e scandaloso che qualcuno si possa introdurre prendere una cosa che pesa 5, 6, 7 chili e che è lunga più di un metro infilarsela sotto la giacca queste sono le immagini dell'autodromo e fuggire indisturbato davanti praticamente agli occhi di tutti men che meno soprattutto dell'interessato ecco poi è chiaro io penso che la federazione che non so se ha rilasciato dichiarazione a riguardo non mi sembra non so non mi è dato sapere se abbia contattato direttamente l'interessato credo che debba fare abbastanza chiarezza perché se qualcuno è in grado di compiere un furto simile all'interno di un'area assolutamente limitata ed esclusiva probabilmente possano succedere anche cose peggiori di questa e quindi secondo me è importante capire che cosa non è stato fatto cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto e soprattutto cosa si potrà eventualmente fare per impedire che qualcosa del genere succeda ora all'amico Fabrizio Porrozzi che è una delle persone più disponibili e corrette che io conosca non lo so con quale animo, cuore e mente possa andare a fare una gara del mondiale soprattutto la gara di Imola nello stesso parco chiuso, nello stesso autodromo dove mentre lavorava per gli appassionati qualcuno che si è finto appassionato gli ha rubato sei mesi, l'equivalente di sei mesi barra un anno di lavoro a seconda di quelli che sono i compensi percepiti ma è il gesto che conta dalla federazione non ho letto niente so che per certo che le persone non possono non essere informati perché anche questa sarebbe una singolare caratteristica che non voglio chiamare l'egligenza ma è qualcosa di molto simile però non dico risarcimento ma credo che secondo me la federazione per una gara da essa organizzata debba richiedere e offrire un po' di sicurezza in più per chi ci lavora, per chi è dentro, per chi transita nei luoghi deputati ha per chi non è conosciuto, per chi fa... per tutti insomma perché se possono perpetrarsi furti di questo tipo possono succedere cose anche più spiacevoli e incontrollate. Detto questo, torsiometro versione anomala finisce qui ne verrà fuori una ancora meno consueta, entro brevissimo ciao a tutti